Non bisogna fare le scoppie. E non le scoppie, dai. Perché non scop? Cotto, dai, dai. Dai, voi. E vedi te le scoppie. E vedi te le scoppie. Cosa hai fatto, Pimba? Vai! Guarda la mia coppia! Guarda la porta qua! La povera! La risposta è stata la parte del gusto e la parte del giro è la parte del giro. Allora si va, ai punti!